amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp oggi ci troviamo di nuovo sul canale circondariale bando valle lepri in una zona diversa che scopriremo però solo dopo la sigla quindi prima sigla amici stiamo scoprendo vari posti varie zone del canale circondariale valle lepri ora mi trovo più o meno al chilometro 4 3 e mezzo 4 e perché sto facendo questo sapete tutti e giampi ve l'ha già detto un milione di volte anche io che stiamo organizzando questo incontro tra iscritti tra persone che amano la pesca qui molto probabilmente nel canale valle lepri e quindi ogni volta che sto facendo sto facendo delle uscite quindi in questa in queste zone zone che sono zona cavalli la volta scorsa avete visto il chilometro zero ora mi trovo al chilometro 4 potrebbe essere interessante anche il chilometro 5 fino al chilometro 8 che è tutto campo gara quindi perfetto sia per garisti ma anche per carpisti siamo in una situazione in un periodo abbastanza difficile per questo canale nel senso che stiamo parlando di gennaio gennaio fa in questo periodo molto molto freddo oggi c'è un vento polare artico si parla di tre gradi più o meno quattro gradi anche la temperatura dell'acqua è veramente molto molto bassa ma questo non ci fa demordere e io sto provando anche in questo periodo a pescare anche se so che il valle lepri difficilmente regala delle catture in questo periodo o comunque delle catture interessanti in questo periodo però ci provo ecco l'acqua anche se adesso è uscito il sole è molto molto fredda speravo si scaldasse un pochino la temperatura ma c'è un vento forte e quindi dubito che anche oggi ci sarà una giornata ideale per la pesca anzi comunque ci proviamo perché i carpisti ci provano sempre col freddo col gelo col caldo in ogni situazione e quindi perché no perché non provarci ma il mio intento è proprio quello di andare a scoprire a vedere un po la riva anche perché sono passati tanti anni dalle ultime volte che venivo qui e quindi sto scandagliando un pochino tutto il percorso in maniera tale che così quando sarà ora di venire saprò dirvi per filo e per segno dove andare come dove posizionarci dove dove ci metteremo questa è una zona molto bella qui ci sono vari canali che si vanno a dimettere nel circondariale ce n'è uno a monte una valle e in più adesso ne ho proprio uno qua dietro di me un'ottima zona soprattutto primavera estate quando si va ad ossigenare un pochino di più l'acqua in questo periodo non ce n'è bisogno da quel che vedo anzi c'è molta apatia davanti da parte del pesce e sto pescando oggi quindi vi racconto anche un po la mia sessione di pesca con tre tecniche tre tattiche diverse primo terminale uno spinner rig spinner rig con una piccola pop up da 14 mm è una pop up decatron di quindi caperlan e al gammarus una piccola pop up che mi permette di utilizzare uno spinner con un curve chunk della corda da numero 4 e si va ad autobilanciare praticamente col peso del del lamo e in questo caso ho utilizzato una piccola retina in pva come pasturazione con qualche boilers tagliata a metà ricordo che la carpa quando si nutre di boilers fa un movimento di aspirazione dall'alto verso il basso in questa maniera qua e si alza ogni volta a differenza di quando va a cibarsi invece di polveri come possono essere mix stick mix così che invece funziona tipo un aspirapolvere quindi mangia in questa maniera qui senza andare su e giù per quello che è fondamentale con una pop up utilizzare delle boilers quindi fargli fare questo movimento se no se mangiasse in questo modo come un aspirapolvere poi la pop up sarebbe in questa posizione e lei non se ne accorgerebbe neanche anche perché ricordo e vi rimetto il link sulla vista della carpa e i sensi della carpa che davanti a sé la carpa non vede quindi proprio sotto la bocca in questa posizione qui la carpa non ha una zona d'ombra una zona buia e quindi noi dobbiamo fare in modo che la carpa veda la nostra esca o comunque senta la nostra esca secondo terminale sto utilizzando invece un blowback rig anzi in questo caso un blowout rig ne ho fatti diversi blowout e blowback dove sto utilizzando le scopex banana di any water e anche essential baits due marchi interessanti che sto cercando di testare in questo periodo periodo difficile naturalmente un po anche sfortunato nel senso che la partenza non ce l'ho ma prima o poi il 2022 si sbloccherà con una bella carpa una bella foto io spero in questo caso quindi un blowout rig e utilizzando una treccia morbida abbastanza lunga quindi per differenziarsi dagli altri terminali ad esempio lo spinner è molto corto ed è rigido e lo spinner è su un terminale a elicottero in questo caso invece sto utilizzando la classica clipettina col piombo a perdere la pop up è una 20 mm totalmente affondante e la sto utilizzando con una retina in pva con delle boilers totalmente triturate col cruscia come utilizzare uno stick mix poi li ho messo anche per attirare un pochino di più le carpe apatiche come in questo periodo un po di dip sopra che è un dip molliccio molto molto appiccicoso sempre di essential baits ultimo terminale un classico pva rig quindi un in questo caso sempre un blowout rig molto corto 10 centimetri con una treccia molto molto morbida di solito uso la corda supernatural e in questo caso all'interno di una bombetta finalmente sto utilizzando i nuovi piombi corda che mi sono arrivati con piscor piombi da tre once e mezzo quadrati perfetti ideali per appunto il pva rig quindi per la bombetta grazie 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 una bellissima posta con un bel canale che si va ad immettere e ricordo ancora un aneddoto di tanti tanti anni fa quando la strada per arrivare qua non era così ma era tutta dissestata non c'era quindi ghiaia ma c'era fango completamente fango e in questo in questa zona mi misi perché nel campo gara dal chilometro 8 al chilometro 5 era tutto occupato perché c'era appunto una gara era una domenica e io arrivai verso le dieci e mezza più o meno del mattino quindi anche ero un ragazzo quindi non guardavo tanto quello intanto ci sarei rimasto tutta la sera era estate e quindi mi misi proprio in questa posta questa posta verso le tre del pomeriggio arrivò un signore che con sua moglie che mi disse ah ma io qui ho pasturato e quindi ci devo venire io era il mio posto naturalmente non è che c'è scritto che qui era pasturato però me ne resi conto perché dalle dieci del mattino dice mezza quando arrivai fino a sera cioè non è stata la volta che presi più carpe in vita mia penso di essere arrivato a dieci dodici carpe piccola e niente di taglia però erano comunque anche cinque sei chili così che non era male ma mi diede una divertita da matti e il signore si mise invece subito dall'altra parte del canale quindi di quel canallino lì subito dall'altra parte e non prese assolutamente nulla e me lo ricordo ancora perché un po un po mi dispiace ecco però mi sono goduto mi sono divertito che fino alla fine comunque ragazzi niente adesso sto facendo quindi questi video dove purtroppo dei gran cappottoni ma prima o poi vedrete che io io non mi do per vinto ma a parte questo vi faccio vedere proprio tutta la strada in maniera tale che vi rendiate conto che adesso la strada è tutta perfetta e tutta pulita si può fare si può entrare sia dal chilometro zero quindi da trava venire in qua oppure dal chilometro otto quindi da ostellato e venire verso il chilometro zero verso la trava e ora si congiunge tutta e quindi come potete vedere dalle immagini che vi sto facendo vedere appunto tutta la strada si va a congiungere ed è tutta perfettamente pulita ci sono ogni tot metri ci sono dei cestini dove poter buttare la roba quindi è proprio stato organizzata in maniera perfetta ci sono i cartelli con campo gara permanente e i vari chilometraggi scritti su su tabelle apposite quindi è sicuramente un bel un bel posto rivalorizzato dopo tutte le storie che abbiamo sentito sul bracconaggio sugli anni 2000 dove c'è stato un bracconaggio importante in queste zone e sfortunatamente il canale ne ha ne ha risentito tanto poi hanno dragato anche tutto il canale pochi anni prima quindi diciamo che dopo tante sofferenze ostellato sta rinascendo e lo sta lo sta facendo nel migliore dei modi ed è per questo che mi piacerebbe proprio valorizzarlo anche con l'incontro che stiamo organizzando io e Giampi per oggi direi che è tutto e alla prossima ragazzi vi ricordo comunque di iscrivervi al canale per non perdere poi i video che ci saranno prossimamente ogni venerdì alle 18 attivate anche la campanella è simbolino che trovate di sotto quindi iscriviti attiva la campanella e alla prossima ciao